Una strada di collegamento strategico per quest'area del Corleonese. Noi ci sostituiamo a provincia, come sapete, perché la regione non ha competenza sulle strade provinciali e però speriamo che Roma si convinca che dopo aver decapitato le nove province siciliane, ma anche quelle della penisola, qualcuno deve pure occuparsi di 15.000 km di strade nell'isola. Noi abbiamo dato la nostra disponibilità, ma lo Stato faccia la sua parte.